Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, grazie per essere tornati a farmi ancora compagnia. Oggi ho avuto la bellissima idea di pulire la mia postazione make-up, ma soprattutto di sistemare e di riorganizzarla un po', perché è un pochino che non ci metto le mani e devo dire che la disorganizzazione del caos ha preso troppo il sopravvento e quindi volevo un attimino riorganizzarla meglio. Mi sono armata anche già di scatole, cestini e quant'altro per vedere cosa riusciamo a fare di carino e niente, se vi va mi farete compagnia, sarete con me e vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Allora, la postazione in questione è questa, lì ok, devo solo fare la pulizia normale e questa invece è la cassettiera che intendo riorganizzare e risistemare, perché, come potete vedere, veramente il caos ha preso il sopravvento. Devo veramente riorganizzarla e risistemare perché c'è veramente un casino. Soprattutto questi cestini che ci sono dentro sono scomodi perché hanno una forma, poi dopo ve la farò vedere, che non va giù dritta ma finisce in obliquo e quindi mi occupano tanto spazio per niente, cioè mi rubano tanto spazio. E niente, qua dove tengo creme e di tutto e di più c'è un insieme di là dietro le palettes ma come potete vedere c'è veramente un casino e quindi niente, è arrivato il momento di riorganizzarla, risistemare il tutto e vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo la nostra fedele aiutante, soprattutto che ci darà tanto sostegno morale, vero amore? Tu sarai molto attiva a tutta questa pulizia, a tutta questa cosa, sicuramente. Sì, sì. Contaci mamma, non ti preoccupare, ci penso io. Dormi, dormi amore, riposati. Tu che puoi, riposati. Bom, tra due secondi crolla. Ecco. Amore, vuoi i coccoli? Guardata. Ma quanto sei dolce tu? Dai amore. Quanto sei dolce? Ci sono? Dormi. Bene, mi sa che non sistemeremo più la cassettiera. Mi sa che oramai resto qua a fare le coccole a lei che è più bello. È vero, tata. È vero? Dai fammi mettere a fare, se no qua non finisco più, perché preferisco fare le coccole a te, che le pulizie, vero amore? Se approvi dammi la zampa. Grazie amore. Grazie dell'incoraggiamento. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti